Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori iBus al Flight Controller SP Racing F3. In questo video userò un EA6B, ma il procedimento è lo stesso per tutti i ricevitori iBus. La prima cosa da fare è prendere questo cavetto GST a 6 pin che ci viene fornito insieme al Flight Controller e rimuovere i fili che non ci servono. In particolare dovremo ottenere i primi tre fili, ossia il nero, il rosso e il bianco. Quindi ci aiutiamo con una taglierina e sfiliamo gli altri. Facciamo leva nella linguetta di plastica, tiriamo su e sfiliamo. Uno. Il risultato finale sarà questo, avremo il connettore GST da una parte e il cavo servo dall'altra. Come abbiamo visto nella recensione, l'SP Racing F3 non può essere collegato direttamente a una batteria lippo, ma deve essere alimentato tramite Back A5V, useremo quindi una PDB. Collegheremo quindi i cavi del Back A5V in uno di questi pad di questa serie qua, ricordandoci di rispettare le polarità. Adesso colleghiamo il cavo GST che abbiamo preparato nel connettore IO2. In questo modo andremo a utilizzare la porta UART3. Quindi colleghiamo. Il risultato finale sarà questo. Adesso colleghiamo il cavo servo al ricevitore, nella porta dell'SBUS, che in particolare è in questa serie di PIN qua. Vedete? Qui. Colleghiamo facendo in modo di avere il cavo segnale verso il basso, i 5V al centro e la terra verso l'alto. Dopo aver collegato il ricevitore al flight controller, siamo pronti per fare la configurazione in Betaflight. Colleghiamo il flight controller al PC e clicchiamo su connetti. La prima cosa da fare è andare in Ports e attivare il serial RX nella porta UART3, visto che abbiamo collegato il nostro ricevitore iBus in questa porta. Adesso andiamo in configurazione e scendiamo verso il basso fino a trovare Receiver. Quindi andiamo nel menu a tendina e selezioniamo Serial Bus del Receiver. Nel menu qua sotto dobbiamo scegliere iBus. Poi possiamo andare in Save e Reboot. Adesso proviamo il ricevitore. Muoviamo il trottile verso l'alto. Bene. Lo IA. Sinistra, destra, ok. Il pitch, alto, basso, perfetto, funziona. Il roll, sinistra, destra. E' tutto apposto. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori iBus al flight controller, SP Racing e F3. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie per la visione. Grazie per la visione.